Annata molto particolare il 2018, è anche piuttosto difficile da un punto di vista viticolo. Abbiamo assistito a un tardo germogliamento, ma poi il ritardo è stato velocemente colmato grazie a quello che è stato il clima dei mesi successivi. Abbiamo avuto un maggio e soprattutto un giugno e anche un inizio luglio molto piovosi e grazie alle nostre capannine meteo siamo riusciti ad essere estremamente tempestivi per entrare in vigna con i trattamenti e quindi questo ci permette di avere oggi un'uva in perfette condizioni e una pianta che sta continuando a fare una bellissima fotosintesi per le varietà rosse più tardive come il San Giovese, qui a Torgiano e il Sagrantino a Montefalco. La vendemmia quest'anno è iniziata il 16 agosto, il giorno dopo Ferragosto, con la raccolta di tutte quelle che sono le nostre varietà precoci per la base spumante, vale a dire lo chardonnay e il pinot nero per il brut mellisemato e il pinot grigio per il nostro brut rosa. A seguire sono state raccolte le varietà, le altre varietà precoci bianche e abbiamo appena terminato la vendemmia del vermentino. Per quanto riguarda i rossi è ormai in cantina, in piena fermentazione il merlot, sia quello destinato al falò che quello destinato al lupo. E ora comincia la vendemmia del greghetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.